Ragazzi, può registrare solo uno, fate registrare sal, perché sennò tu non puoi, in contemporanea non è possibile. Ok, sto registrando io. L'altro giorno l'avevamo fatto, non so. Ok, allora niente, benvenuti, quindi sento un eco, quindi provo a zittirvi tutti. Dunque, vediamo se riesco. Aspetta, c'era un'opzione di silenziare tutto. Ok, un, due, tre. E niente, c'è ancora un po' di eco. Non è che per caso mi arriva da Mozilla Hubs. Lo chiudo. Sì, direi che era un eco su Mozilla Hubs. Allora, quindi ci siamo. Io comincio a condividere lo schermo e se dovete parlare, cioè se dovete chiedere qualcosa, mettete in chat. Datemi anche una mano agli altri tutor per capire chi è che sta parlando. Mozilla Hubs, quindi un momento che torniamo su Mozilla Hubs. Allora, credo che vi siate tutti iscritti su, innanzitutto mi vedete lo schermo, sì? Tutto regolare. Confermo, mi sentite, vedete lo schermo. Tal, scusami, devi dire a Laura di chiudere il microfono su Hubs perché si sente eco. C'è il microfono aperto di Laura su Hubs. E sì, Rossano. Sì, beh, lo stanno sentendo, credo che l'hai detto. Sì, senta. Quindi Laura e Rossano devono chiudere il microfono su Hubs. Io ho chiuso Hubs appunto per questo motivo, ma prima di entrare in Hubs, quindi il problema lo vedremo fra qualche minuto, fra un po'. Quindi prima di entrare in Hubs, volevo solo farvi vedere il corso, questo qua di DAD. Il corso è un corso che è sostanzialmente fatto sia su Mozilla Hubs adesso, quindi faremo due lezioni su Mozilla Hubs in questo modulo, e poi più avanti, fra probabilmente qualche mesuccio, dovremmo fare anche un'estensione su MyTest. Sono due mondi virtuali, Mozilla Hubs si presta per quasi tutte le scuole, quelle dei più piccoli, ma anche quelle di un po' più grandi, mentre invece MyTest è una cosa molto simile, c'è un mondo virtuale, c'è un mondo in cui praticamente i ragazzi possono entrare con degli avatar e giocare, costruire, insomma sperimentare come se fosse un videogame, ma in realtà in contesti educativi. L'idea di questi moduli che stiamo proponendo è proprio quella di proporre, non soltanto usare Mozilla Hubs, perché vedrete che Mozilla Hubs in realtà è abbastanza semplice, anche se necessita di un po' di attenzione, ma l'idea fondamentale è di aiutarvi a costruire proprio anche delle applicazioni, diciamo degli strumenti da usarsi anche nelle vostre classi. Quindi in questa prima lezione vedremo, faremo un primo approccio a Mozilla Hubs, ma cerchiamo anche con l'aiuto di Cristiana Pivetta di far vedere anche come si può usare Mozilla Hubs come strumento efficace per fare una didattica a distanza. Quindi prima cosa volevo chiedervi, siete tutti iscritti al corso questo di Classroom? Se non lo siete già iscritti, eventualmente poi chiedete o qui o in Edu3D l'indirizzo, mi sembra che ci sia tutto a posto. Comunque credo che sia pubblico. Allora, in questo momento nella Classroom, che usiamo in maniera abbastanza semplice, cioè non è che abbiamo preparato una marea di materiale lì sopra, stiamo mettendo alcuni appunti. Comunque gli appunti che ho pubblicato in questo momento sono alcuni video e in particolare una playlist che vedete che contiene quattro video. Chiedono il codice della Classroom. Il codice della Classroom, aspettate che lo... Ok, e questo è EJ7, questo qua, vediamo un po' se riesco a darvelo. Copia link d'invito. No, mi copia tutto questo coso qua. Vedete, comunque il codice è proprio solo EJ7B7JQ, quello che vedete qua. Quindi, i quattro video che ho fatto, in realtà ne ho fatti molti di più, ma sono... Varebbe la pena che poi in qualche modo li guardiate. Sono in totale 11, 4, 6, 3, insomma sono una mezz'orata complessiva e spiegano le basi che poi vedrete. Alcune di queste le vedremo anche stasera. Ma la cosa che appunto ci tenevo è proprio spiegarvi cosa poi ci vogliamo fare. Infatti in questo modulo introdurremo alcuni di questi concetti e il meccanismo con cui entriamo, facciamo e tritiamo. Nel prossimo modulo vedremo proprio degli esempi, non esaustivi tra l'altro, di come si può usare effettivamente Mozilla Hubs per creare un percorso didattico. Allora adesso visto che... Allora quanti siamo qua adesso collegati? Siamo in una ventina. Allora, solo una cosa, se per caso adesso vi darò l'indirizzo della pagina di Mozilla Hubs che è un semplice link. 21, 21 potremmo farcela. Quando entrate nella stanza vedrete che può darsi che ci impiega un po' di tempo a entrare perché 21 può essere una quantità interessante. Diciamo che Mozilla Hubs è data per circa 25 persone, però abbiamo visto che entrando veramente in 25 non è detto che si entri a tutti. Nel caso che abbiate dei problemi farmi vedere alcuni piccoli trucchi per entrare più facilmente. Comunque, l'indirizzo che dovete usare, che adesso scrivo qua in chat, è alisl.org.hubs. Non so se lo vedete in chat, quindi se voi entrate, e quindi lo faccio anch'io, così lo vedete praticamente quello che faccio, cliccando su quel link. Ah, perché l'ho messo l'https, mi sono compiuto l'errore che... senza la s, http, alisl.org.hubs. Ok, cliccate su questo secondo, che è quello che funziona. Dunque, quello che lui fa è di caricare tutta la stanza. Ecco, quando si entra, mi raccomando, assolutamente, cliccate prima di tutto su Enter Room, e poi Enter On Screen, perché entrate sullo schermo, e poi assolutamente mutatevi il microfono, perché se ci sono i microfoni aperti, succede un po' di casino. Ok? Quindi facciamo Enter Now, e accertatevi che ci sia il microfono con la crocina sopra. Ok? Quando siete entrati, la prima cosa che vi raccomando è di scrivere, di digitare G, la letterina G, che vuol dire Fly Mode, no? Quindi, in modo tale che vi compaia, Fly Mode Enabled. Quindi, lettera G, che vi consente, praticamente, di volare. Volare vuol dire che, cliccando col mouse, il tasto sinistro del mouse, e trascinando, potete vedere cosa vi circonda, e poi, con W o le freccine, volate nella direzione in cui avete il pallino bianco. Il pallino bianco, quindi, se volete andare verso, qui c'è il paperotto. Ecco, facciamo una piccola dimostrazione per vedere che riusciate a muovervi. Quindi provate tutti a venire qui dove c'è il paperotto. e, se dovete parlare, invece di parlare, digitate qua, quindi cliccate qui dove c'è il send to room, e potete dire ciao. Quindi, ciao e, praticamente, buona serata. Ok? Ok, alcuni di voi, probabilmente ci impiega un pochino più tempo, soprattutto se avete un computer vecchio o una connessione internet parecchio lenta. Però, comunque, vedo che sono già entrati 19, quindi credo che ci siamo già parecchi. Quindi, ce n'è uno in lobby, anzi, ci sono quattro in lobby, Riccardo, eccetera. Se per caso, nonostante questi accorgimenti, non doveste riuscire a entrare entro un tempo ragionevole, tipo, non so, quattro minuti, cinque minuti, vi insegno un piccolo trucco. Comunque, prima vediamo un po' quanti riescono ad entrare. Ecco, io vedo che voi siete dentro quasi tutte, tranne due, tre, quattro persone sono ancora fuori. Vediamo se queste quattro persone ce la fanno ad entrare. Paio, te, nel frattempo sei ancora fuori? A me sta caricando ancora gli oggetti della stanza, sta a 16 su 18, quindi sì, ancora sto fuori. Sì, quindi siete in fuori ancora in questo momento due, quattro, cinque, sei. Quattro, è troppo grande. Se per caso, dicevo, non vi carica, quando poi... Non so, ma ti compare in alto a sinistra questo toast con le tre freccine, con le tre righine? No, perché la... Allora, io vedo soltanto... Io vedo hubs by Mozilla loading 21 su 21 objects e ci stanno queste tre righe che... Ci stanno? Ok, se tu le clicchi... Se tu le clicchi, è sopra, lo vedi questo? Se no, poi... Adesso, magari aspetta solo ancora un istante, magari ce la fa, ma altrimenti poi ci sono i room settings, cliccando su quello, non so se si vedono da te. No, scusa, le preferenze. Le preferenze trovi. Le trovi? Ci sono da te? Adesso mi sembra stato tutto, di verità. Ok, non ti entra, in pratica. No, 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 ma era prevedibile. Ma adesso ci proviamo ancora un attimo, vedo che comunque man mano stanno entrando, adesso sono tre persone solo che sono fuori. Adesso sono due fuori, quindi magari può darsi che ce la fai. tieni conto che le stanze di Mozilla Labs normalmente sono accessibili anche da cellulare, quindi vuol dire che sono studiate per essere anche abbastanza leggeri. Però abbiamo già visto che da cellulare a volte succedono questo genere di problemi. Comunque, allora... Nel caso, se non riesci ancora a entrare, tanto visto che mi hai visto che il tuo computer è effettivamente un po' lento, segui sullo schermo quello che vediamo, nostro. A parte che adesso ne è rimasto solo più uno fuori, quindi sarai tu, questo red shoveler. Ok, allora, io facciamo così, io vado avanti, tu segui un po' quello che faccio vedere adesso, Cioè, che vediamo insieme. Quindi vedete che entrando in questa stanza ci sono una serie di... c'è un'ambientazione che tra l'altro ha progettato Michelangelo, Michelangelo. Michelangelo, non so se lo conoscete, è uno degli organizzatori, uno dei tutor più importanti di Edu3D. Lui, in pratica, ha usato degli strumenti, cioè degli oggetti, cioè lui è bravissimo a progettarle queste cose anche con Blender e con gli altri strumenti, ma da quello che ho capito, quando ha costruito questa stanza, ha preso degli oggetti già fatti, no? E quindi è un qualche cosa che il progetto di una stanza del genere la potreste fare anche voi, cioè anche senza bisogno di essere esperti di Blender. Ovviamente, se avete fatto il corso di Blender, se avete fatto il corso di Blender, potreste portare gli oggetti che costruite in Blender all'interno di queste strutture. E tra l'altro il meccanismo non è molto difficile. Comunque, prima di andare avanti volevo solo farvi vedere che qui c'è uno schermo in cui abbiamo messo delle diapositive che ha costruito Cristiana Pivetta. Non so se mi sente in questo momento. Chi sei, Cristiana? Sto cercando di... Sì. Ok, ecco ci sono. Ok. Allora, se guardate o sul mio schermo o se siete dentro Mozilla Hubs lo schermo che c'è proprio sul palco, anche se è un pochino appoggiato sui divanetti, lascio la parola a Cristiana che vi spiega un po' come si possono utilizzare questi scenari Mozilla Hubs. Cos'è Mozilla Hubs e come si può usare. Grazie. Allora, un attimino. Dunque, questi sono i punti che oggi tratteremo, no? Vediamo quali sono le opportunità di apprendimento e perché Mozilla Hubs rappresenta una valida opportunità per creare degli ambienti di apprendimento che non sono soltanto fruibili dagli studenti ma nei quali loro possono essere appunto dei protagonisti attivi. Allora, aspettate un attimino che vado nella pagina successiva. Allora, ok. Un attimino. Oddio. Adesso non riesco a muovermi. Mi puoi mandare avanti. Sì, mando alla pagina 3. Ok, grazie. Scusate, ma anche qui la connessione non è sempre stabile. Allora, quindi come vi stavo dicendo e come aveva già preannunciato adesso Salazar noi possiamo costruire degli ambienti di apprendimento all'interno di Mozilla Hubs utilizzando anche semplicemente la libreria. Quindi questo non richiede se un docente è come dire alle prime armi oppure se fa costruire degli ambienti di apprendimento agli studenti più piccoli penso ad esempio agli studenti che frequentano la scuola primaria quindi non richiede una grande specializzazione e ogni ambiente di apprendimento poi può essere modulato in maniera differente cioè nel senso che noi possiamo come docenti predisporre degli ambienti di apprendimento utilizzando poi tutte quelle funzionalità che adesso ci illustrerà Salazar pensiamo al fatto appunto di scrivere anche dei numeri i numeri che poi possono essere pinnati e quindi questi numeri potranno essere spostati dagli studenti per costruire appunto delle operazioni e questo può essere anche un'anticipazione di una lezione per la classe capovolta quindi non solo i numeri ma anche un ambiente un ambiente di carattere storico di carattere geografico che può stimolare appunto gli studenti alla discussione e quindi un'anticipazione e il diciamo il giorno dopo poi in classe in presenza oppure online quindi discutere e continuare a lavorare insieme può essere anche una strategia per costruire una sorta di caccia al tesoro quindi anche per gli studenti più grandi inserire ad esempio delle immagini potrebbero essere dei cure code oppure dei link o addirittura linkare una di queste stanze con un'altra stanza successiva quindi seguendo un percorso in cui gli studenti appunto devono risolvere oppure portare a termine alcune alcune indagini per passare al livello successivo quindi questo per diciamo sollecitare e anche entusiasmarli alla ricerca alla riflessione ma anche per costruire quelle che sono le competenze digitali ancora come digital storytelling possiamo immaginare di costruire delle storie quindi all'interno di una stanza che abbiamo creato se abbiamo spiegato adesso come dire in maniera molto semplice abbiamo spiegato quali sono gli elementi di una favola rendere poi gli studenti attivi quindi in questo caso concedere a loro tutti i permessi per costruire una nuova stanza e rappresentare una favola quindi con i protagonisti i discorsi dei protagonisti ed eventualmente anche dei documenti sotto forma di immagine o sotto forma di pdf in realtà possono essere anche inseriti sotto forma ad esempio di word però risultano poi degli oggetti che sono cliccabili quindi non abbiamo la possibilità di leggere e di vedere questa immagine subito ma dobbiamo cliccare sull'oggetto pinato e ci si aprirà poi il documento di word ancora per il lavoro di gruppo io adesso penso di utilizzarlo per il lavoro di gruppo durante anche la video lezione con degli studenti della scuola secondaria di secondo grado per motivare loro e anche me allo studio dei promessi sposi quindi far costruire appunto degli ambienti che riguardano determinati personaggi e poi per quello che il project based learning oppure anche se in maniera diversa il problem based learning si parte quindi dalla progettazione di una di una soluzione partendo da un problema il problema può essere qualsiasi qualsiasi tipo di attività in cui il docente dà soltanto appunto le minime indicazioni quindi le minime indicazioni come dicevo prima può essere la costruzione di un di un testo narrativo oppure anche di un museo virtuale qui all'interno su un particolare magari obiettivo sostenibile potrebbe essere l'acqua quindi noi forniamo soltanto delle indicazioni ai ragazzi i ragazzi quindi trovano le idee progettano e rendono appunto fluibile questo ambiente secondo quella che è diciamo la loro idea di progetto da sviluppare naturalmente e poi inserendo quella che è la valutazione e l'autovalutazione quindi abituare anche gli studenti a valutarsi all'interno di un contesto di questo tipo allora vediamo se riusciamo ad andare avanti ti chiedo forse sono riusciti ad andare avanti allora per quanto riguarda la se me la mandi avanti tu salazar scusa sì dopo andare avanti strumenti a disposizione del docente adesso anche se qualcuno me l'ha spostato ah ecco quindi infatti dicevo mi sembrava forse l'hai spostato tu no perché sarei dovuta tornare indietro allora con la freccia avrei dovuto usare a sinistra allora dunque vediamo se riusciamo ad andare avanti allora quali sono gli strumenti che il docente ha a disposizione che poi sono anche gli strumenti che utilizzerà lo stesso lo stesso alunno va bene la possibilità quindi di abbiamo detto prima di disporre di una di una libreria particolare di assegnare agli studenti anche alcune alcune modalità va bene quindi alcune possibilità di azione le configurazioni e poi si può partire da zero nel senso che attraverso questo ve lo spiegherai in maniera esaustiva attraverso Spock si possono appunto modulare e costruire degli ambienti anche lì avendo appunto delle delle librerie a disposizione che ci consentono di creare appunto una struttura maggiormente complicata però io parto dal presupposto se lo dobbiamo utilizzare a scuola con gli studenti più piccoli preferisco cioè è preferibile quindi utilizzare degli strumenti più semplici va bene e poi magari utilizzare gli strumenti più complessi con gli studenti appunto più più grandi allora inoltre all'interno di questo di questo ambiente possiamo condividere lo schermo quindi anche in presenza oppure online possiamo condividere il nostro schermo quindi far vedere delle particolari attività e mi è piaciuta soprattutto il fatto che io posso registrare il video quindi mentre mi trovo all'interno insieme con gli studenti io che sono docente posso avviare la registrazione del video e dell'audio e quindi ho una documentazione diciamo del percorso quindi una ricostruzione del percorso con gli studenti che vestono i loro avatar quindi dal punto di vista anche della privacy con la sicurezza anche con la possibilità appunto di trasmettere poi questi questi video di farli di inserirli anche sul sito della scuola per raccontare l'esperienza che è stata fatta potrebbe essere anche utilizzato in questo caso da parte dei ragazzi o dei bambini per raccontare appunto la loro progettazione come sono arrivati a creare quel tipo di ambiente ancora possiamo incorporare le pagine web quindi in realtà possiamo anche condividere delle stanze in cui noi andiamo a mettere delle risorse e chiediamo agli studenti di come dire consultare queste risorse rielaborare quello che hanno trovato quindi dargli una nuova forma un nuovo aspetto e pubblicare poi la loro presentazione all'interno dell'ambiente ancora abbiamo detto appunto link link di qualsiasi tipo ma link anche con le immagini e gli studenti un altro aspetto è il fatto che possono digitare il codice quindi se abbiamo gli studenti appunto più piccoli attraverso la condivisione del codice è il loro smartphone non devono crearsi un account quindi possono accedere e possono appunto lavorare e l'interazione è poi a seconda dei permessi perché se noi diamo un ambiente soltanto da fluire almeno che non ce lo non ci creiamo appunto il clone di questo ambiente gli studenti potrebbero appunto eliminare anche distrattamente alcune alcune parti quindi se è un ambiente che loro devono smontare ricostruire va bene lasciare tutti i permessi se invece è un ambiente che dobbiamo che dobbiamo mantenere appunto stabile perché lo dobbiamo appunto utilizzare in questo caso moduleremo i permessi in maniera diversa andiamo ti chiedo cortesamente se puoi mettere l'altra slide e questo è della parte dello studente giusto lo studente sì sì dalla parte dello studente ecco il fatto di agire in un in un ambiente di questo tipo dove le cose non vengono strutturate come se fosse un'aula ma vengono disposte e dal docente dagli studenti in maniera in maniera differente in realtà ogni alunno che accede segue quello che è il suo percorso cosa vuol dire che noi possiamo anche vincolare quindi la struttura no potremmo mettere semplicemente dei cartelli o degli oggetti delle bandierine uno due tre quattro però secondo me è invece diciamo positivo proprio perché è un ambiente colorato in cui andiamo a sistemare vari oggetti che ogni studente decida di intraprendere il suo percorso da dove appunto ritiene da dove insomma nel punto in cui la curiosità lo guida e può apprendere in maniera individuale oppure in gruppo che cosa può fare quindi può incrementare le risorse abbiamo detto se noi chiediamo allo studente quindi di costruire un'attività oppure di riflettere su quello che stiamo facendo quindi può aggiungere delle risorse come abbiamo detto prima sotto forma di immagini link video anche da youtube e si possono anche inserire queste oppure può anche creare dei suoi video parliamo degli studenti più grandi e inserirli adentro nell'ambiente quindi l'approccio che in Mozilla è un approccio intuitivo cioè nel senso che appunto lo studente entra guarda si muove esplora e poi vede come agire e come appunto strutturare o rispondere a quelle che sono le richieste oppure come dire quegli impulsi che gli ha trasmesso il docente e che lui appunto deve mettere in atto per valorizzare il suo talento andiamo all'altra slide ecco gli strumenti la strumentazione è semplicissima nel senso che la connessione quindi ci troviamo in classe andiamo a condividere lo schermo condividiamo le stanze i ragazzi accedono con i device oppure con il tablet oppure anche con i visori in questo caso però parliamo di scuole secondarie e di secondo grado il fatto di creare l'avatar esistono questo è un avatar molto semplice ma esiste la possibilità di personalizzare il proprio avatar anche con la fotografia magari con una fotografia particolare oppure assumendo anche come dire le sembianze di un supereroe e anche per quanto riguarda i comandi sono semplicissimi qui ho elencato appunto quelli basilari ed elementari e questi appunto consentono anche ad uno studente della primaria di poter partecipare andiamo avanti grazie Sì dovremmo essere quasi arrivati alla fine ecco quindi come qui ricapitoliamo quindi io trovo che Mozilla sia assolutamente adatto per ogni studente per il primo ciclo perché ho pensato che anche per la scuola d'infanzia è possibile creare delle narrazioni quindi aggiungere degli audio che noi insomma chi insegna nella scuola d'infanzia appunto proiettare e quindi costruire poi delle storie narrative anche con gli strumenti più piccoli perché è semplice è inclusivo nel senso che in questo ambiente tutti hanno il loro avatar tutti si muovono nello stesso modo è economico abbiamo visto i costi non ci richiedono una particolare attrezzatura almeno che non utilizziamo i visori e poi per quanto riguarda il secondo ciclo quindi trovo che si possano creare delle narrazioni e degli approcci trasversali quindi anche degli esperimenti di scienze quindi creare un laboratorio di scienze lavorare anche con l'insegnante di italiano in modo tale che i ragazzi siano in grado quindi di raccontarsi e di raccontare la progettazione che hanno realizzato ecco per questo è tutto e vi ringrazio chiudo di nuovo il microfono a meno che non ci sia qualche domanda adesso oppure le facciamo dopo non lo so qualche domanda veloce se c'è qualcosa di importante almeno su questa cosa tra qualche minuto possiamo se no vado avanti io ok perfetto mi direi che quello che ha detto Cristiana e questo lo vedrete anche un po' l'avete capito sì prego allora volevo chiedere a Cristiana lei ha parlato per i visori sono interessato anche all'uso dei visori hai detto che è solo per la scuola secondaria di secondo grado questo perché risponde come dire ad un'esigenza di carattere normativo o un suggerimento di carattere operativo allora no ti spiego io sono abituata qui in Sardegna abbiamo sempre pochissime attrezzature quindi normalmente i visori li troviamo nelle nostre scuole li trovo nella scuola secondaria di secondo grado anche adesso nella nuova scuola in cui sono hanno i visori mentre alla scuola media per quanto mi riguarda quando ero prima era praticamente impossibile comprare dei visori quindi parlo scusate io questo l'ho visto un po' dalla mia realtà regionale però se appunto ci sono dei progetti è possibile presentare dei progetti e comprare anche i visori per la scuola media naturalmente sempre con con l'attenzione io parto sempre dal presupposto appunto che devono essere delle attività che siano indirizzate a tutti gli studenti e anche quindi agli studenti che possono avere diversabilità quindi anche un'esperienza attraverso il visore potrebbe essere efficace come non efficace va bene solo per questo comunque a livello internazionale ci sono delle direttive sull'uso dei visori anche per i bambini non esiste non c'è un divieto esplicito ma ci sono delle raccomandazioni per cui ad esempio di solito si preferisce non far usare i visori soprattutto quelli pesanti insomma ai minori di anni 13 ma non è una legge fortissima diciamo che ad esempio il Go l'Oculus Go lo si fa usare si riesce a usarlo anche dai bambini e anche il Google Cardboard non so se sei presente che hai fatto la domanda sì 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 certo sì e il Cardboard si usa anche tra i bambini e Modilla Hubs si può entrare anche col Cardboard no? cioè quindi è una cosa no io ho da comprare da allestire per la mia scuola un laboratorio è una primaria perché abbiamo vinto un PON sono 20.000 euro e volevo appunto diciamo acquistare una parte degli strumenti proprio per la realtà virtuale quindi era però è una scuola primaria e quindi chiedevo io alle medie abbiamo già due visori abbiamo due Holy Swift però appunto chiedevo per quello ecco ero interessato e Giovanna Giannone rispondeva un po' a queste domande dicendo che tanto diceva che di solito le fruizioni di queste cose per i bambini si cerca di tenerle abbastanza ristrette cioè non non per lunghi periodi no? e poi c'era un tipo di visore che non è un visore in realtà è un Google Cardboard che si chiama Merge non so se lo conosci che è semplicemente un cardboard fatto con sostanza di plastica abbastanza spugnosa quindi anche se cade non rovina il cellulare non si rovina lui insomma quindi può essere perfetto per con i bambini comunque il discorso è lungo quindi non lo approfondiremo ulteriormente no? se siete interessati magari facciamo poi qualcosa di specifico io adesso proseguo un po' qua cercando di farvi vedere le cose che Cristiana ha appena accennato e cioè io mi metto un attimo in un angolo e vi faccio vedere il fatto quello che lei parlava di aumentare no? abbiamo uno spazio e a un certo punto vogliamo inserirci degli oggetti dentro allora con Mozilla Hubs non c'è niente di più semplice nel senso che la cosa più veloce a parte la chat cioè qui si può chattare l'avete visto prima ma è abbastanza banale c'è questa bacchettina bacchettina magica che ad esempio se io scrivo una scritta cioè ciao mi chiamo Pippo no? e poi premo la questo cosa la bacchettina compare un cartello con quello che io ho scritto no? questo è già un contenuto testuale che chiunque che sia in grado di chattare e tipicamente i bambini sanno chattare però sono anche in grado di rendere queste cose che chattano qualcosa di persistente quindi hanno un cartello che possono creare i cartelli semplicemente in maniera assolutamente istantanea è possibile anche fare dei cartelli con delle poesie quindi non so tipo sempre caro poi shift invio mi fu quest ermo colle mi è avuta in mente una cosa così e così si possono scrivere cartelli anche un pochino complessi questi cartelli tutte queste creazioni se li date in mano i bambini in specie più piccoli fanno abbastanza casino nel senso che dopo un po' i bambini creano un sacco di cose quindi devono essere anche un po' pilotati un pochino tenuti sotto controllo quindi tra l'altro nella stanza chi crea la stanza può decidere se le persone nella stanza possono creare degli oggetti e muovere degli oggetti quindi magari in certi momenti si può vietare di farlo e in altri momenti si dice adesso fate create gli oggetti in modo tale da evitare che ci siano casini questi oggetti sono spostabili semplicemente cliccandoli e muovendoli si possono con lo spazio se premo lo spazio si possono cancellare col cestino quindi si si possono cancellare facilmente si può ingrandirle o rimpicciolirle insomma ci sono tutta una serie di cosette che si possono fare rifacciamo un cartello creiamo il cartello comunque queste cose nei miei video sono anche un po' spiegate quindi se le guardate ma non solo nei miei video quando fate lo spazio compaiono un insieme di possibilità uno dei più importanti è il PIN che c'è in cima PIN vuol dire che l'oggetto rimane lì anche quando lo studente esce dalla stanza se non è pinnato l'oggetto quando lo studente esce va via tutto e questo serve per fare un'autopulizia anche il diritto di fare il PIN è uno dei permessi che si danno nella lezione quindi eventualmente uno può anche dire alle persone fate create tutto quello che volete ma non gli si dà il diritto di PIN quindi il PIN abbiamo qua room settings cioè qua PIN objects e a quel punto siete sicuri che nel momento in cui i ragazzini escono scompare tutto quello che hanno caricato l'unico problema è che se vi dimenticate voi di fare il PIN di un oggetto che avete inserito se ne va via anche le vostre cose poi qui c'è un'opzione che permette di ingrandire l'oggetto questo qui vedete che sono le freccine che se io clicco e poi trascino il mouse lo faccio diventare grosso o piccolo e c'è questa opzione che permette di ruotare il cartello tra l'altro mentre ho selezionato il cartello con lo spazio e mi muovo col W aspetta no se ho cliccato il cartello senza spazio e mi muovo col W mi porto a spasso il cartello queste sono le basi ABC per posizionare le cose che in realtà non sono non si riesce a allinearle in modo perfetto però se i vostri ragazzi dopo un po' dovrebbero comunque imparare nel senso che con un po' d'attenzione cliccando selezionando la rotazione praticamente si può riuscire a ruotarlo in modo tale che sia un pochino organizzato non è facilissimo ma si può queste informazioni testuali poi altrettanto facilmente si possono aggiungere informazioni delle immagini ad esempio se voi avete delle immagini sul vostro computer potete semplicemente fare l'upload con più e potete far arrivare praticamente un'immagine qualunque oppure anche se avete un'immagine di cui avete il link adesso qui cerco immagine tanto per dire e poi vado immagini e prendo la prima immagine che trovo adesso però eventualmente per esempio questa faccio copia image address entro qua e metto semplicemente questa faccio il control v quindi l'incolla e poi premo la sempre questa barretta e automaticamente ho importato l'oggetto immagine come diceva Cristiana prima quindi è possibile importare dell'immagine anche qua o perché ce le sia sul proprio computer quindi io posso averle scaricate a un certo punto tipo questa e aver fatto un save image sotto download e poi qui andiamo sotto aspettate che torniamo qua e facciamo il più sotto downloads vediamo un po' se lo prende ok vedete che fa questo rumorino e poi ho l'upload di un'immagine che avevo sul mio computer con lo stesso sistema questo questo sistema funziona sia con l'immagine che con i gif che con le altre cose ma funziona anche con oggetti tridimensionali per gli oggetti tridimensionali lo faccio in maniera semplice in realtà vale quest'altra bacchetta magica questa bacchetta magica rossa in cima vi permette di estrarre degli oggetti tridimensionali da varie fonti e queste fonti sono per esempio Google Poly non so se la conoscete è una libreria di oggetti low poly cioè vuol dire che sono ideali per Mozilla Hubs se no abbiamo ancora una libreria Sketchfab dove sono gli oggetti che sono molto più pesanti e quindi io almeno finché cioè alcuni sono molto belli e sono low poly ma in generale rischiate di avere degli oggetti troppo pesanti oppure ci sono altre cosette i gifs potete cercare delle gifs insomma possono ad esempio se uno vuole anche avere una gif fatta così va lì e ottiene la gif animata e anche dei frammenti dei frammenti audio o video poi per toglierlo si fa sempre nello stesso modo si seleziona e si si toglie quindi cioè il sistema è sempre lo stesso domande su questi su questo sistema che vi sto facendo vedere di inserimento della di contenuti multimediali no sento nessuno non leggo nessuno comunque mi sentite si continuo 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 essere collegato sto parlando con sì perfetto dicevo l'altra cosa notevole invece oltre a questo sono proprio le immagini google poli quindi se uno trova ad esempio qui c'è un gatto però metti cerchiamo altri gatti ecco se cerchiamo gatto probabilmente non troviamo molto ma se cerchiamo cat si trova di più quindi per dire vabbè ma come tutto in internet è fatto così insomma cioè purtroppo per fortuna secondo i punti di vista si deve usare molto l'inglese perché cercando gatto non ho trovato niente e se hai cercato questo trovo un po' di cosette no oltretutto tendo a conto che cat in inglese vuol dire felino in realtà non vuol dire gatto il link alla stanza facciamo solo un esempio quindi prendiamo questo kitty e praticamente ho realizzato l'oggettino kitty che si comporta esattamente come un'immagine quindi questo qui posso allargarlo quindi lo seleziono e faccio l'operazione di allargamento oppure lo faccio girare oppure posso clonarlo per vedere altre cose e poi c'è questa immaginina in fondo che vedete che è questa qui la boccia che cade e la boccia che cade serve per far cadere l'oggetto per dargli la gravità quindi se voi cliccate sulla boccia che cade il gatto cade e si mette per terra questo è un modo per non funziona per tutti gli oggettini ma per raddrizzare per raddrizzare le varie cose ora qualcuno sta chiedendo come si fa a salvarsi la stanza allora la stanza voi prendete il link in alto a sinistra e questo link finché non viene cancellata la stanza dal creatore rimane valido e quindi è un semplice link che si fa ctrl c altrimenti fate share qua e avete l'indirizzo che poi tra parentesi è lo stesso che c'è in cima e quindi potete passarvelo quindi fare copy si copia questo indirizzo oppure come mi aveva fatto notare Cristiana l'altro giorno che lei quando aveva usato le Mozilla Hubs preferiva usare il codice numerico il codice numerico questo perché ai bambini gli piaceva perché entravano nel cellulare o comunque digitavano questo speciale numero di telefono quindi ogni stanza c'è un numero di telefono che però è un link che dura 72 ore quindi lei diceva ad esempio aveva fatto un esperimento in cui visto che questo link dura 72 ore e se dà questo link anziché l'altro le persone possono cioè i ragazzini le può monitorare quando si collegano perché si devono collegare con quel link in quelle ore lì e poi mette magari in un cartello proprio un link a un questionario di un form o comunque un qualche cosa sul web che permette di capire che gli allievi sono entrati e che hanno compreso la lezione o comunque il percorso didattico che lei ha ha specificato una cosa notevolissima di Mozilla Hubs è che nelle impostazioni della stanza è possibile anche avere fare in modo tale che la stanza sia ceduta solo ad invito quindi invite only e viene generato un invito che dura solo finché non viene revocato quindi solo quelli che conoscono questo link possono entrare in quella stanza e non è praticamente non è più assolutamente pubblica nel senso che qui c'è una specie di password è un po' come in in zoom in cui c'è un link in qualche oggetto cosa intende? c'è un link per no non è possibile fare in modo tale se clicchi su un oggetto ho letto che l'hanno richiesto ai sviluppatori tra l'altro è un progetto che è nato da pochissimo e quindi ogni tanto aggiungono delle possibilità quello che adesso si può fare sono dei cartelli che cliccando si va su su altre in altre stanze quindi si crea una cosa però attenzione quando voi siete su un oggetto e c'è un'opzione forse su un oggetto così vedete che c'è open link questo open link in questo caso apre l'oggetto da dove è stato scaricato che non è esattamente quello che stai chiedendo ma si apre la pagina mentre se lo fate su una presentazione ad esempio pdf cioè io ad esempio ho scaricato questo qui che vedete qua è un documento pdf che aveva fatto Cristiana che ho semplicemente scaricato e poi gli ho fatto l'upload con il modo di prima lui ha riconosciuto che è un pdf e a questo punto se io faccio lo spazio e poi faccio open link come qualcuno aveva richiesto prima praticamente si va automaticamente su un link su internet e si apre questa cosa qua ed è viva nel senso che a quel punto lì si può agire sull'oggetto pdf e si può interagire e io in altre situazioni ad esempio in mind test dove mi hanno stato richiesto delle cose del genere avevo suggerito proprio di fare il qr code perché col qr code è una cosa che ai bambini piace un sacco e loro lo possono riconoscere col cellulare ad esempio quindi poter andare infatti abbiamo anche strutturato delle specie di escape room in cui a seconda di dove trovano gli oggetti possono andare avanti selezionando e vedendo appunto quello che c'è nel quello che viene scatenato dal del qr code altrimenti potete fare un link a un'altra stanza cioè se voi avete un'altra stanza di allora qui tra l'altro se io vado qui abbiamo anche le preferite da qualche parte mi sembrava favorite rooms qui sono alcune altre mie stanze e qui se io prendo questo faccio posso fare un copy link address spero di averlo preso e quindi quando se io metto un pannello qua faccio ctrl v che c'è questo indirizzo premo la la barretta vedete che compare un pannello con la foto della stanza e poi abbiamo la possibilità di fare visit room quindi questo è un modo di fare un link fra stanza di mozilla hubs che è anche abbastanza interessante quindi se voi non fatelo perché se no sparite mi andate su quella stanza ma potete creare dei percorsi in cui in un certo punto una stanza magari nascondendo uno di questi oggetti dentro un forziere o qualcosa del genere si riesce a creare dei percorsi molto complessi poi adesso stiamo facendo proprio una carrellata veloce però c'è proprio tutto uno strumento per costruire queste stanze che si chiama Spoke e adesso per spiegare Spoke ci va molto un po' di tempo quindi non sicuramente questa lezione e non pensavo di farlo anche nella prossima lezione però se poi andiamo avanti se vi interessa Mozilla Hubs faremo poi dei moduli specifici su Spoke ma tenete conto che con Spoke è possibile proprio progettare nelle stanze un po' come si farebbe in Blender ma in modo molto più semplice quindi se voi andate in Mozilla Hubs e qui avete in cima anche l'opzione Spoke quando specificate l'opzione Spoke avete la possibilità di costruire un progetto lo chiama e il progetto crea una scena quindi noi creiamo un empty project oppure un progetto partendo da una cosa già fatta qui si crea un progetto vuoto e poi si arriva in una struttura che ricorda un pochino Blender o Unity e all'interno di questa struttura voi potete inserire tutta una serie di cose molto sofisticate come esempio delle rocce viene praticamente generato una rocce enorme che ha creato che ha messo lì e che poi può essere rimpicciolita aumentata quindi c'è la scalata quindi si può fare grosse piacere si può muovere insomma ci sono un sacco di cose che si possono fare per progettare degli ambienti questo ambiente in cui siete voi in questo momento e se ci fate caso è il numero di oggetti che sono dentro sono 15 ma tutte le sedie e tutte le cose che ci ha messo Michelangelo non sono conteggiate perché fanno parte del progetto della scena che ha fatto Michelangelo in Spoke cioè Michelangelo ha fatto una scena in Spoke e poi questa scena in Spoke l'ha fatta diventare una stanza quindi la non so se spero che non sia confondente comunque c'è le scene in Mozilla Hubs possono essere fatte metà in Spoke e il resto si può aggiungere degli oggetti volanti fatti così scopo di questo corso che facciamo noi in questo modulo nel prossimo sarà non useremo Spoke quindi faremo le cose molto velocemente però vedete e dico solo questo e poi vi chiedo le sue domande perché stiamo avvicinandoci alla fine se voi volete creare una stanza senza Spoke ma in maniera molto banale basta che andate dentro Mozilla Hubs e poi qui c'è proprio il link create room e automaticamente lui vi crea una stanza senza che dobbiate fare niente quindi la stanza che sta creando in questo momento è una stanza che usa una scena che in questo momento è questa di Halloween ma se voi volete cambiare il nome la scena di partenza volete prendere ad esempio il garage infestato gli cambiate scena e avete praticamente automaticamente un'altra scena di partenza haunted garage vedete che tra l'altro è molto carina credo che questa forse piace anche di più ai bambini e qui se cliccate su il nome la scena la stanza lui la chiamata regal triangular party però se voi la cliccate potete cambiare di nome attenzione che vi fa cambiare il nome alle stanze vi fa cambiare il nome alle stanze solo se siete loggati dentro mozilla hubs si possono aggiungere anche musica tra l'altro qui vedete che c'è questo favorite che vi permette di evitare di perdere la stanza cioè solo mettete qua la stanza che state creando e gli mettete questo qui è il garage allora a questo punto difficilmente la perdete perché la ritrovate quella stanza andando qua nelle vostre favorite e qui vi trovate garage con le stelline però ricordatevi ancora che quando siete dentro dovete essere loggati quindi dovete avere il nome dell'avatar io ad esempio posso cambiarmi l'avatar si possono anche aggiungere musiche certo l'aggiungere delle musiche credo che basti principalmente avere un punto mp4 e usare sempre la la bacchetta magica per inserire uno dei file uno dei file musicali poi l'altra cosa che è stato accennato ancora c'è anche la streghina che va avanti su e giù ah perché sono nella devo entrare proprio nella ok quindi sempre caso non siete loggati lui vi chiede di loggarvi e nel momento in cui vi loggate ad esempio qui io sono loggato ho messo all'azzara ma se non fossi loggato come ad esempio qui faccio finta di non essere più loggato allora a questo punto per loggarmi devo fare un sign in sign in chiede il vostro indirizzo e a quel punto lì manda un link alla vostra email e quindi a quel punto lì voi andate sulla vostra email e trovate praticamente il un link che se cliccato vi permette di entrare quindi io vado sulla mia email mi trovo ecco vedete your hubs sign in avete un link che se cliccato fa una verifica dell'email e a questo punto avendo verificato se tornate dalla nella vostra nella stanza in cui eravate vi dà effettivamente che siete se siete collegati col nome col nome indicato e vedete che tra l'altro man mano che andiamo avanti qui gli oggetti sono aumentati quindi diventa diventa potente diventa sempre più pesante la stanza entro ancora nel screen faccio vedere solo l'ultima cosa che ho fatto vedere nei video che era la possibilità di di cambiarvi l'avatar quindi qui potete cambiarvi il nome ma anche quale avatar indossare se fate browse avatar ci sono degli avatar featured cioè già fatti quindi in questo momento ci sono gli avatar fatti così cosa ha con la volpina o meno oppure è possibile creare un avatar da zero e quando si crea un avatar da zero è possibile attraverso uno strumento che si chiama quilt questo si può creare un avatar partendo da qualunque immagine quindi si può prendere un'immagine e metterla praticamente dentro qua dentro e ottenere un avatar fatto a forma di quell'immagine e questa è un'altra attività che si fa praticamente in pochissimo perché si fa così dove che si esporta questa skin quindi la skin esportata qua sotto adesso ho fatto una cosa iper veloce giusto per farvi vedere ma quando poi andate su questo l'avatar che avete creato gli selezionate la skin e gli mettete quella che avete creato e quindi avete automaticamente questa skin quindi se io faccio save e poi questa skin viene portata su sui server di Mozilla Hubs ci piega un attimino a questo punto è un mio avatar questo lo seleziono io ho questo avatar quindi se io faccio accept adesso sono qui dentro voi in teoria dovreste vedermi come con questo avatar mi confermate che mi vedete con questo avatar se visto che voi non vi vedete potete quando siete dentro cliccare sulla macchina fotografica e farvi la foto vedete che c'è questa macchina fotografica sì 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 ma era solo per farvi vedere molto velocemente un avatar fatto proprio completamente in fretta e furia ovviamente si fa molto di più però immaginatevi un bambino di 5 anni che avendo una foto semplice si riesce già a fare un mestiere che fatto con altri mondi virtuali invece necessiterebbe di capacità tecniche assolutamente difficili che possa avere un bambino o comunque dovrebbe impegnarsi per parecchi anni mesi diciamo più che anni va bene queste anche telecamere servono per fare i selfie nel senso che poi si può cliccare e ottenere una foto di voi dentro vedete questo rumorino e viene prodotto praticamente c'è il rumorino di creazione e viene creata l'immaginina questa immaginina può essere aperta come link viene fuori un link qui in cima che potete anche diffondere quindi questo è un selfie fatto brutto come dicevate prima però è interessante ci sono altre domandine a parte quella sulla musica che poi magari faccio un videino appena ci riesco adesso sulle cosine che ho fatto vedere è tutto chiarissimo comunque tenete conto che se avete delle domande potete anche cercare Mozilla Hubs how to insert music o audio adding content e qui ci sono dei video dove spiegano come si fa con adding content c'è sicuramente ah no questo adding content è su spoke che quindi non è un pochino più io suggerirei di allora per aggiungere della musica io ho visto che alcuni aggiungono dei video degli mp4 con la musica corrispondente ma credo che si possano aggiungere anche degli mp4 nativi mp3 cioè nativi vediamo un po' se ho degli mp3 sì la scena del garage è molto molto carina allora qui ad esempio c'è un mp3 questo vediamo un po' se copia copia full name e poi proviamo ad entrare dove eravamo prima cioè qua e proviamo mettere aspetta ah sì vedete che ha messo ok ho messo dell'audio non so si senti io in questo momento lo sento voi lo sentite ecco tra l'altro voi dovreste avere il controllo nel senso che avete questo controllo e qui potete controllare il volume quindi più o meno forte oppure bloccare l'audio insomma poi se avete degli audio che vi disturbano potete andare qui nell'elenco degli oggetti e cercare praticamente vari oggetti e dovrebbe essere possibile individuare il allora qui c'è una foto qui dovrebbe esserci tutti gli oggetti che avete portato Google Poly quindi vedete che potete vedere quindi l'insegnante può in realtà verificare tutto quello che viene importato ed eventualmente se c'è qualcosa che non va può anche selezionarlo e poi rimuoverlo oppure pinnarlo se lo ritiene oppure show background per vedere dov'è oppure go to per posizionarsi vicino all'oggetto quindi tenete conto che tutte queste possibilità qua sono gratuite allora io per mettere l'audio ho semplicemente cliccato credo su più e sono andato e gli ho detto semplicemente il file da inserire vedi ho cliccato track 2 mp3 ho fatto apri e lui questo file praticamente l'ha uploadato e se c'è una linea internet molto veloce quindi ha fatto abbastanza in fretta probabilmente da voi ci impiega un po' di e ho messo l'audio ok gli oggetti interattivi poco purtroppo hanno deciso di non farli tanto interattivi quindi si possono fare gli oggetti che si possono prendere in mano e lanciare insomma che è un minimissimo di interazione ma non è ancora il massimo io ho anche chiesto agli sviluppatori loro hanno timore a mettere gli oggetti interattivi perché hanno paura che vengano usati per scopi illeciti cioè tipo per fare cose non insomma cioè eleciti dal punto di vista dell'hackeraggio cioè che possono distruggere passare virus che è un terrore che ormai c'è dappertutto allora io nel frattempo vi dico per tra poco finiamo perché di mezza io devo uscire sì ma nei limiti che mi hai visto prima cioè devi mettere un pdf o un word e poi da lì linkare attraverso quello ma direttamente non è facile fare un link a risorse esterne diverse da quelle che abbiamo accennato per la prossima volta ci troveremo in e vedremo un po' di esempi che ha strutturato Cristina Pivetta e poi eventualmente anche se qualcuno di voi dà qualche esempio e tramite il gruppo facebook cercheremo di stimolarvi insomma a fare alcuni esperimenti anche voi quindi creare delle stanze che magari sì sì c'è il coprifuoco alle 23 per quello quindi alle 22.30 devo uscire perché qui sono nella mia casetta dove sono tranquillo e quindi devo prendere e darmene a casa altrimenti devo rimanere qua a dormire quindi diremo che io adesso tra pochi secondi insomma interrompo la condivisione invito a tutti comunque a mettere dei commenti sul gruppo facebook c'è proprio un gruppo facebook che magari poi Michelangelo scrive esattamente quale credo non so se sia proprio l'EVR o l'altro su cui si pensava di far continuare la conversazione oppure anche Edu3D però magari se poi c'è un grosso traffico conviene mettere su Edu3DVR insomma se volete mettere delle foto dei selfie o quant'altro vi venga in mente allora io adesso vi saluto interrompo la conversazione e vi ringrazio per tutto buonanotte e ci vediamo mercoledì e ricordatevi che facciamo la seconda incontro